Il coro Si Dove tutti possono accedere Una volta che si sono formati musicalmente e vocalmente Entrano a far parte di questo gruppo qui Che come progetto è nato 25 anni fa E non è proprio questo Cioè essere un attimo in controtendenza Con la linea solita dei cori Che facevano musica Canti alpini O musica sacra Quindi fare pop e jazz Solo con le voci Adesso diciamo che Giordi Condotta Non è più un nome che si rifà al repertorio Ma semplicemente al loro comportamento Zero Condotta Eccola, bene, complimenti anche per questo Andiamo a sentire alcune canzoni del vostro repertorio Iniziando con Giordi di Giandre Si, un'antica ballata Inglese ripresa Da famosissimo Fabrizio D'Arre Una ballata del Cinquecento La storia è un po' triste però molto dolce Bene, siamo qui per ascoltarla Grazie maestro, sono prepari Con noi questa sera i Zero in Condotta Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.